Ma io so che io facevo le orecchie perchè così accorciavo l'atterraggio, no? perchè se vai tanto lungo conviene... Nel nostro c'è tanta aria che è difficile atterrare lungo, no? Ma lo sai che se stai... io passavo sopra la chiesetta e mi tirava su... Sì, sì, forse che non c'era prima quando c'ero io, che ho sudato... Ho sudato, mi scaldi di te. Dimmi Massimo. Massimo, Massimo, sta arrivando da te Luca Olivari. Te Luca Olivari e Clemente salite e andate a prendere le macchine. Poi Clemente torna giù. Guarda, guarda, guarda. E' certo. Non lascia aperto, non lascia aperto, ignoralo. Perché ormai c'è 90 anni e ragiona così. Lascia aperto. Dicchi di sì. Bene, bene, bene. Così siamo più tranquilli anche noi la prossima volta. Vai, dai. Per me, io, se ne riporto ancora un po' di resta. Sì, sì, sì. Va bene. Sì, sì, ciao, 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 ciao. Ma però vedi che mola giù qui. Oh, 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 oh. È così profilo che stai facendo un po' di resta. Grazie a tutti.